Musica Salva avvolgersi in un telo di naio Non scalda ma trattina il calore del corpo Chilometri di nylon ad avvolgere i bisogni di migliaia di persone disperate Bambini, donne Il pesco di Molfetta andò di corsa generosamente senza sé I due si incontrarono per caso al centro del paese Ognuno con il sacco di farina sulle spalle Si guardarono, si abbracciarono E lì, proprio in quel luogo, venne poi costruita la chiesetta Bellissimo La chiesa che nasce da un abbraccio Più forte Quando sulla scorta di Isaia si è scoperta la stretta parentela che c'è Tra la pace e la giustizia si sono scatenate le censure dei poteri Di che cosa si deve interessare un vescovo? Del colore dei paramenti o del numero dei geni? Siamo soltanto una ventina di ore Quando siamo usciti sulla strada la gente ci abbracciava, ci stringeva la mano Soldati piangevano Tra questi allentori Gli ultimi dodici giorni Perso una di queste madonne Era rivolto il suo sguardo In quel pomeriggio del 20 aprile 1993 193 Un morgine Un morgine Un morgo Un morgo Un morgo Un morgo Grazie per la visione!